La San Cataldese supera con un perentorio 2-0 in La Mezzia al Valentino Mazzola di San Cataldo contro un avversario quotato e blasonato. I Verdi Amaranto sfoderano una prestazione senza sbavature conquistando tre punti pesanti per la classifica. Il primo gol al 37esimo parte dai piedi di Baglione con la deviazione di Zerbo. Il raddoppio su calcio di rigore al 60esimo trasformato da Bonanno. Nel finale gli ospiti si fanno vedere dalle parti del portiere della San Cataldese ma non trovano la via della rete. I risultati della 22esima giornata del girone I di Serie D. Vibbonese Catania 0-2, Acireale Castrovillari 1-2, Licata Mariglianese 2-0, Santa Maria Cittanova 1-0, Ragusa Paternò 1-1, Real Aversa Canicattì 0-1, San Luca Locri 2-4, San Cataldese La Mezzia 2-0, Trapani Sant'Agata 1-1. La classifica Catania 54 punti, Locri 40, Sant'Agata e La Mezzia 36, Licata 35, Vibbonese 34, Trapani e Canicattì 29. San Cataldese, Santa Maria 28, Acireale, San Luca, Castrovillari e Ragusa 23, Cittanova e Real Aversa 21, Paternò 17, Mariglianese 11. Nel campionato di eccellenza, girone A, la Nissa torna al successo in trasferta dopo due sconfitte consecutive. I biancoscudati segnano quattro gol alla Parmonval, ultima in classifica. Prima rete di Vignone in acrobazia al 36esimo, nulla può l'estremo difensore locale. Sullo 0-1 la Nissa continua ad attaccare al 39esimo e Morales ad andare in gol, ispirato da Faramarna. Nella ripresa Lusero sbaglia un calcio di rigore, ma la squadra di Alessio Sferrazza non si ferma e al 61esimo ancora Morales va in gol su calcio di punizione. Sotto di tre reti la Parmonval cade ancora nel finale all'85esimo e è esposito a firmare il poker della Nissa. I risultati della diciannovesima giornata del campionato di eccellenza. Castellammare-Resuttana 0-2, Parmonval-Nissa 0-4, Acragas-Casteldaccia 1-1, Cus Palermo-Enna 1-3, Gela-Don Carlo 1-1, Oratorio Marineo-Sciac 1-2, Profavara-Mazzara 2-2, Mazzarese-Leonfortese 0-1, la classifica. Enna 47, Acragas 46, Profavara 39, Don Carlo 37, Mazzara e Sciac 33, Mazzarese 31, Casteldaccia e Nissa 25, Leonfortese 20, Oratorio Marineo 19, Castellammare 17, Resuttana 14, Gela 13, Cus Palermo 11 e Parmonval 8.